Una mano, una mano, una mano, una mano Quasi killato Oddio Mamma mia, mamma mia che ho fatto Ragazzi siamo Siamo quasi al rank 24 di Larry e Lori Ci andiamo a fare questo tredicesimo rank 25 Quindi Let's go Oh intanto aspetta un attimo, abbiamo due star drop Il primo è andata una merda Il secondo Niente, andiamo a farci questo rank 25 Non lo so Secondo me Secondo me potrebbe essere abbastanza Particolare lui Io non so come cazzo dovrei fare A irritarlo però, vi giuro Oh è fermo, ci godo Calma Fermo, fermo, fermo nel chill Calma Buono, 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 buono Quasi killato Oddio Sono morto Killato Let's go Con calma Con calma Qualche danno io l'ho fatto No 200 di vita 200 di vita Non ci posso credere Madonna Peccato Per pochissimo Raga Potrebbe uscire davvero una cosa figa Porterei contenuti Oltre Brawl Stars E Teoricamente solo contenuti Supercell Perché sono un creator Supercell Però comunque Vedremo Più in là Io ho pure la Play 5 Nello studio Quindi magari non si sa Chissà mai Non si sa Non si sa Magari si potrebbe creare pure qualche altro Contenuto su qualche altro videogioco Vedremo Buono Con calma Mamma mia L'ha distrutto Ali Qualche danno io l'ho fatto Zero kill Ma qualche danno fatto Calma Aspettaci il buono Ali Fenomeno Ali comunque Buono Con Amazon Prime è gratis Con Amazon Prime è gratis Raga Collegate Amazon Prime Fate la sub gratis E venite a giocare con me Mi raccomando Vi ricordo Raga Pure Gruppo esclusivo sub Per messaggiare con me Quindi taglie Raga Ho perso con lui Ma come ho fatto a perdere con lui Scusatemi Oh si è fermo Ci godo Ci godo Con calma Con calma Con calma Controlliamola per favore Controlliamola per favore Controlliamola per favore Let's go Ho cambiato l'inquadratura Della mia Della mia webcam Mi piace meglio così Molto più ravvicinata Molto più Più figa Secondo me Che ne pensate Ditemi che ne pensate Che so curioso Lo sapete che Del vostro giudizio È molto importante Per me Buono Buonissima Buona badino Aspetta un attimo Siamo nel chill Siamo nel tunnel Siamo nel tunnel Che rank 25 farai dopo Penso Jesse Perché ho trovato ieri La Oddio Penso Jesse comunque Non sono sicuro Ma penso Jesse Comunque Lo Devo solo un attimo Calcolare bene Cosa fare Attenzione Le relori Buono Andiamo 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 Buonissima Let's go Dai raga Spingiamo Ho in mente di farvi Uno Mamma mia Gli ho salvato il culo Dalli comunque Ho in mente raga Di portarvi Lo speciale 5000 iscritti su youtube Con la mia postazione Da oltre 4000 euro Raga E Dopo vi farò Vedere nel dettaglio Tutte le componenti Della mia postazione Del mio studio Che fidatevi che Merita Merita davvero tanto Buono Lo fai Buono Eh non lo so Vediamo Vediamo Qualcuno entra Tranquillo Mi sto immaginando Tasti per giocare No ma Non può essere Tom È impossibile Spammate sempre Raga Questo Mi raccomando Ah Sono morto Raga Sono morto Ci vuole tempo Con calma Io la vedo Abbastanza difficile Qua eh Non so perché La vedo Poco poco difficile Non lo so Non lo so Vedremo Lo scopriamo Solo vivendo E comunque Sto alzando Un sacco di brawler Contemporaneamente Bravo bro Ottima Ottima Strategia Perché È la strategia Migliore Sare lì insieme Madonna Calma Mi ha preso Ha fatto un bel Prefire E no Ma che cazzo Calma Allì bella kill No raga No raga Guarda non vedo Non vedo l'ora Calma Tocciamo un bel po' Vai Non mi ha preso Comunque stanno full dominando Che lato Buono E si Andiamo Andiamo ragazzi Stiamo devastando tutto Madonna Wow Con calma Usa la ulti adesso Il signor Brock A noi Non ci frega Proprio un Come si vuol dire Mi fate dire Parolacce Ha preso Ha preso Quasi kill Lato Ah Raga l'ho preso Ok l'ho killato però L'ho killato con calma 1v1 1v1 Allie vuole fare il fenomeno Vuole Vuole davvero Chiudere questa partita 1v1 A cesissimo Sbaglia il colpo Non è un problema Prova la play Mamma mia Raga Mio Dio Mamma mia Raga Oh mio Dio 728 Raga Con calma Con calma One eternity Later Non conta Vero però Dai Ti ricordi di te Si Sparzi Però si Il lato Buonissimo Ma comunque Sub0 è un fenomeno Cioè nel senso Non so come fa ad essere così forte Lui Con calma Buro bro No Sono morto All'ultimo Peccato Sub0 però Alla casa Eh qua mi stanno Full Carriando Bro Sincero Stanno giocando molto bene Loro Mamma mia Raga Come giocano Eh niente Raga Sono morto Eh non potevo fare niente Eh questo mi sa che l'abbiamo perso Sto round Allora se fa la giocata Sub0 ma mi sembra un po' impossibile Vediamo Oddio Comunque Lili Molto forte Molto molto sbroccata Come brawler Secondo me Aspetta Non so perché Devo capire Sto scelto Ci sta Ci sta Raga Io lo sapevo Che l'ultimo game Dovevamo un attimo Soffrire Però va bene Ora cerchiamo di gestire bene Questo game Tante perché Il nostro tredicesimo Rank 25 Con solo i tre mesi e mezzo Di gioco Fidatevi che non è poco Chi l'ha dopo nolli Oddio Oddio Oh mio dio No allie se fa la giocata Non ci credo Oddio Oh mio dio Cosa ha fatto allie Ragà Però Ragà Let's go Ragà ce l'abbiamo fatta Ragà Mamma mia Oh Mio Dio Ragà ce l'abbiamo fatta Ragà Assurdo Grà Ragà あー B O Gà B A B